Musica Salve, sono Giuseppe Greco e frequento il quarto anno dell'indirizzo costruzione e ambienti del territorio presso l'istituto Magliorana di Gelo In case di alternanza scuola lavoro abbiamo avuto modo di avvicinarci al mondo della modellazione tridimensionale in particolare stiamo realizzando dei modelli scala ridotta di edifici facenti parte di Borgo Guttadauro un borgo agricolo sito nel territorio del comune di Putera mi ha incuriosito molto la possibilità di ricostruire in scala degli oggetti dirizi esistenti e di poterli anche rielaborare dal punto di vista progettuale ottenendo più attuali soluzioni per la loro riqualificazione che ne eviti progressivo degrado dovuto all'abbandono il lavoro è abbastanza complesso abbiamo prima eseguito il rilievo quindi abbiamo realizzato i tradizionali elaborati grafici al computer ricavando da questi delle sacome che è stampate su materiale semi rigido stanno permettendo di realizzare i modelli di scala è un'attività veramente affascinante che sta coinvolgendo noi ragazzi in modo positivo le moderne tecnologie permettono di raggiungere risultati migliori attraverso l'uso di strumenti che rilevano con maggiore rapidità e dettaglio come gli scanner 3D e successivamente attraverso l'utilizzo di stazioni grafiche e software dedicati i modelli possono essere rielaborati direttamente in 3D e prototipati mediante la stampante tridimensionale con una quasi totale gestione di eventuali errori praticamente in tempo reale quasi per gioco abbiamo pensato insieme ai docenti che ci seguono di realizzare un laboratorio di modellistica tridimensionale dove poter svolgere queste attività con gli strumenti adatti noi ragazzi contribuiremo con la passione e la voglia di imparare la scuola mette a disposizione docenti e locali inoltre aziende di fama internazionale ci offrono gratuitamente l'uso di software altamente professionali per uso didattico ma ci mancano gli strumenti e per questo chiediamo a voi di darci una mano grazie